Oggi vi portiamo alla scoperta di tre modi di apparecchiare la tavola natalizia con i consigli di Florenzi Casa. Perché non stupire i nostri ospiti con lo stile nordico Total White? In questo esempio abbiamo usato piatti stoneware quadrati che vanno in lavastoviglie, forno e microonde. Bellissime posate in acciaio vintage e calici in vetro lavorato. Potete trovare l'abbinamento adatto anche con cuscini e sedie. L'eleganza è importante. Una tavola di tendenza può invece essere apparecchiata con piatti in boncina di stile contemporaneo, appoggiati sul runner, disponibili in rotoli, con tante diverse decorazioni. Ci possiamo divertire ad abbinare accessori come questi piccoli piattini per il pane con la renna natalizia. Il piccolo cestino o il piattino per il pane va a sinistra del piatto, così come il tovagliolo. La tavola natalizia sicuramente apprezzata sarà quella in stile country classico, con una tovaglia e un servito di piatti in ceramica forte, a motivo tartan. Potete anche usare dei taglieri in legno come sottopiatti, che dopo Natale saranno utilissimi per servire un antipasto. Come segna posto, scegliete un cavallino a dondolo, con portabiglietto o un piccolo albero natalizio. Un'idea in più può essere un appoggio posato in legno decorato. Molto importante è il centro tavola, che per Natale potrebbe essere un traccio decorato, che da noi trovate già pronto. Lo stile eclettico è adesso molto apprezzato. Potete utilizzare un servito riposato in rame vintage, abbinato a piatti in ceramica forte, una paglietta in perline come il sottopiatto e un bellissimo set in vetro colorato di Sigual. Ogni bicchiere, con forma e colore diverso, darà un tocco speciale al vostro Natale. Vi aspettiamo da Florenzi Casa, con tantissimi altri prodotti e consigli. Grazie a tutti.